Musica In compagnia di Federico Perna ci si continua ad allenare nonostante il periodo c'è grande voglia e determinazione per te c'è stato un gradito ritorno, tu sei ormai un cuore bocca Esatto, sì sì, ormai siamo al terzo e quarto campionato felicissimo di essere tornato e speriamo di ricominciare al più presto Hai ripreso ad allenarti, come detto non ci siamo comunque fermati nonostante il periodo è quello che sia però con attenzione, rispettando le regole, cerchiamo di andare avanti Certo, le regole prima di tutto perché altrimenti non usciamo più da questa situazione e dai vediamo come valvolo le cose, speriamo in meglio Senti quest'anno poi c'è una squadra completamente diversa c'è il vecchio gruppo storico, un gruppo che si è aggiunto squadra più forte e soprattutto un gruppo di ragazzi che si trova bene insieme ci si diverte Sì sì, il gruppo è un gruppo sano, ci divertiamo insieme adesso piano piano affiniamo anche gli schemi, la tecnica e sono sicuro che ci toglieremo le nostre soddisfazioni durante la stagione Grazie a loro a Federico Perna, per la voga Emanuele Tremenzozzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti